Si sboccerà su questo piano rettilineo dove i nostri piloti provereranno ad effettuare le impennate su ruota posteriore e aterrarci su ruota posteriore e quindi lo ripetano su ruota posteriore e l'antenna su ruota posteriore. Queste sono moto attrezzate per fare questo esercizio, ecco, vediamo un'altra destrezione. Adesso qui i loro guardo come dobbiamo capire, vedete, anche hanno la velocità per cui possono davvero divertirsi come vogliono, stanno gli astruttivi, vincolo, modo di giro. I nostri piloti, Francesco Giardano, Danilo della Porte, mediato un risorto, Capitano dal alto risorto, banco e suelto, Pomo Tuyasa e I.T. Renni. Passaggia Ina, passaggia Ina, passaggia Ina, il nostro Drio, vai Emiliano, vediamo cosa si ha fatto. Passaggia Ina, passaggia Ina, passaggia Ina, con il suo cavallo pazzo, e Emiliano che sono ed è la tensione a carriamo a marcia, avete visto cosa ha fatto? Con il piede in verticale ragazzi. Mi preci, allora Francesco riesce in un'operazione che è unico. Le zone azioni assolutamente sono qualcosa di inusuale, lo vogliamo riferire in piacenza, no? Non vogliamo riferire perché è qualche cosa, attenzione al sfido, eh? Allora, volevo dire una cosa, in qualche modo, in vera come tutti quanti gli altri, solo che nella fase finale, questa del finale, con un po' potere, riesce in qualche modo a toccare e poi la faglia a terra e la faglia, si portassi in posizione, diciamo, certo stanza, vai, non so che cosa possiamo dire, però adesso vediamo che succede, perché la cosa è difficile, allora, in pennana ci siamo, adesso tu che cosa fai? Dopo, poi la faglia a terra, ritorna su se stesso, non è riuscito a certi necessari, eh? Mancava, mancava così, voi sentite di, mancava, 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 mancava una cosa, qua e non è un po' più. Questa è una cosa, comunque come in Piano in la foto